mancano pochi giorni alla chiusura del mercato estivo e non è stata ancora trovata una soluzione per victor o simen l'attaccante è ora fuori rosa in attesa di una nuova destinazione ma secondo quanto rivelato da giovanni scotto ad inizio settimana è da prendere anche in considerazione una possibile conferma del nigeriano con rinnovo per un ulteriore anno la disfatta col cancelletto verona impone una riflessione in vista del bologna per il problema del centravanti il cancelletto napoli chiederà al cancelletto celsi di velocizzare al massimo primo tempi per aprire la trattativa per cancelletto o simen con l'arrivo di cancelletto lukaku ma nel frattempo si prepara alla conferma forzata del nigeriano che ora diventa un'ipotesi da non scartare permanenza victor o simen alla ssc napoli all'attaccante partenopeo può essere proposto un rinnovo così da spalmare l'oneroso ingaggio da 10 milioni di euro netti all'anno all'attaccante dovrebbe essere proposto di rinnovare ancora spalmando l'ingaggio di 10 milioni l'anno ha concluso il giornalista con un post su x il rinnovo di osime nella possibile permanenza a napoli sarebbe un vero e proprio colpo di scena dopo settimane in cui si è trattato per la sua partenza per la sua partenza